Ciao a tutti, oggi come mi è stato richiesto da qualcuno di voi vorrei rispondere ad un nuovo tag e si tratta di un tag un pochino datato che ho visto soprattutto nella sua versione in inglese, anzi in realtà solo nella sua versione inglese e come avrete letto dal titolo è il tag invade my privacy, ho tentato di tradurre al meglio le domande dall'inglese all'italiano, spero di non aver fatto nessun errore, nel caso segnalatemelo. Ecco vorrei dirvi questo, mi piacerebbe utilizzare questo video come raccolta di domande perché ho notato che ci sono alcune cose che mi richiedete abbastanza frequentemente e quindi vorrei realizzare tra non molto un video di Q&A, cioè di questions and answers e perciò utilizziamo questo video per raccogliere tutte le domande, io poi sceglierò quelle più interessanti e farò un video di risposte. Allora, iniziamo subito invece con questo video tag. La prima domanda chiede ti sei svegliata? Irritabile? No, non particolarmente, anche se come alcuni di voi sapranno la mattina è il mio momento peggiore perché quasi sempre non mi sento benissimo e sono un po' stralunata, però no, non irritabile, almeno questa mattina. Poi usciresti con un 18 anni all'età in cui sei ora? Vabbè dipende per cosa, uscirai per prendere un succo di frutto forse sì. Preferisci essere amica con le ragazze o con i ragazzi. Al momento è abbastanza indifferente, ho diversi amici maschi, ma anche molte amiche femmine. L'importante è che siano delle persone simpatiche e intelligenti. Poi sorrideresti mai a uno sconosciuto? Penso di sì. Riesci a impegnarti per una sola persona? Sì. Che aspetto hai in questo momento? Abbastanza scacciato? No, vabbè, quello che vedete non è un gran che. Forse questa è una delle domande che non ho tradotto benissimo. Vabbè, nel caso sottoscrivo il corrispondente in inglese. Che cosa indossi adesso? Allora, una camicetta e dei jeans. Quanto spesso ascolti la musica? Spessissimo, tutti i giorni. Indossi più i jeans o le tute? Ultimamente indosso quasi sempre i jackins. al posto dei jeans. Le tute molto molto raramente. Pensi che la tua vita cambierà drasticamente prima del 2016? Quella domanda originale era pensi che la tua vita cambierà drasticamente prima del 2014? Però insomma è passato il 2014, quindi ho aggiornato la data. questo. Penso di no. E spero che cambi drasticamente su alcuni aspetti che ci siano delle volte positive, ma non credo che poi questo cambiamento sarà così drastico. Penso che più o meno tutto procederà come adesso. Sei su ciecole o una persona asociale? E dipende dai contesti. Molto spesso sono dall'impressione di essere piuttosto riservata e di non voler dare confidenza agli altri, agli sconosciuti. però poi in realtà una volta rotto il viaggio sono piuttosto socievole. Mi piace parlare. Se la persona che ti piace dicesse che le piace qualcun altro cosa diresti? E niente, ma queste domande sono troppo strane. e... motivo, vabbè, non sai che ti perdi. Poi non credo che lo dirai. Sei brava a nascondere i tuoi sentimenti? non troppo. Sono piuttosto trasparente sotto questo punto di vista. Poi la quattordicesima domanda che non c'entra niente e con le altre. Sai guidare con il cambio manuale? Mi fa ridere. Io ho imparato con il cambio manuale, come tutti, e... però la mia macchina ha il cambio automatico. ti interessa se la gente parla male di te? Non particolarmente. Andrai fuori città presto? Oddio, no, non è in programma che io ho fatto... Ah, sì, 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 sì. Per lavoro. Andrò fuori città la prossima settimana. Quando è stata l'ultima volta che hai pianto? Io pianco piuttosto spesso e l'ultima volta credo sia stata forse 3-4 giorni fa perché ho rivisto un film della Disney degli El Vagabondo. Ti è mai piaciuto qualcuno che non ti aspettavi? No? Se potessi cambiare il colore degli occhi lo faresti? Forse sì, proverai con il castano scuro o l'azzurro. però poi non so se starebbe. Di qualcosa che devi fare domani. Che giorno è domani? Devo scrivere degli articoli e devo consegnare un documento. di qualcosa che non ti piace sulla giornata che stai avendo. Non mi piace il fatto che stiano abbaiando come al solito i cagnolini qui sotto mentre registro il video. Sono tanto simpatico, per carità, però ogni volta che decido di accendere la videocamera, fanno cacciare. Ti è mai piaciuto uno dei tuoi migliori amici del sesso opposto? Sì. Tanto tempo fa. Sei gentile con tutti. Purtroppo a volte anche troppo. Nel senso che la gentilezza è sicuramente una qualità apprezzabile, ma qualcuno tende ad approfittarsene. non molti per fortuna. Su che cosa stai seduta in questo momento? È su una sedia. Pensi di poter durare in un rapporto di sei mesi e non imbrogliare? Direi proprio di sì. Hai mai desiderato qualcuno che non potevi avere? Da piccolina ero innamoratissima di Michael J. Fox. Chi è stata l'ultima persona con cui hai parlato prima di andare a letto ieri sera? Mi sembra. Vabbè sarà stato il mio fidanzato immagino. Ti viene spesso il raffrettore? Ma perché mi sto domando? No, non mi viene spesso, però attualmente sono un pochino raffrettata, forse si sentirà dalla voce. Ti si sono mai abbassati i pantaloni in pubblico? Per fortuna no. E nemmeno mi si è mai alzata la gonda in pubblico. Qualcuno ti odia? Non lo so. Non penso di aver fatto qualcosa di male a qualcuno. Ma magari qualcuno segretamente mi odia, non so. Hai qualcuno del sesso opposto a cui puoi dire tutto? No, in generale non c'è qualcuno a cui io possa dire tutto. O meglio, forse si potrei, ma non sono una persona che comunque ci tiene a mantenere una certa sfera di privacy. Ti piace guardare film dell'orrore? No. Prima di tutto perché li trovo abbastanza... no, dipende. Allora, ci sono ovviamente dei capolavori di grandi maestri, però gli ultimi film che ho visto poi non sono una grande appassionata del genere. Li ho trovati piuttosto banali, scontati. E poi non mi piace la sensazione di avere paura. L'unica serie che ultimamente ho apprezzato tantissimo, sono diventata proprio una grande fan, è The American Horror Story. Che però non è realmente una serie horror, diciamo che contiene degli elementi un po' noir. E qualcosina di splatter, ma non tantissimo. E comunque molto molto ben fatta, mi è piaciuta tanto. Sei una persona gelosa? Sì, nel giusto. Sono gelosa delle mie cose. Se dovessi cancellare un anno della tua vita completamente, quale sarebbe? Non lo so. Qualcosa... Probabilmente qualche periodo dell'infanzia. Perché non ho vissuto un'infanzia sempre felicissima. Però alla fine non cambierai, cioè non me la sentirei di cancellare totalmente un anno della mia vita. Non è mai andato tutto completamente storto. C'è sempre qualcosa di positivo anche nel male. Hai fatto un sogno la scorsa notte? Beh, io sogno sempre, faccio dei sogni stranissimi. L'ultimo che ho fatto, a parte che sogno spesso di litigare con qualcuno. Chissà perché. Poi, a parte sono dei sogni molto articolati, molto strani. Poi siamo alla domanda 36, in tutto sono 50. C'è qualcuno a cui puoi dire tutto? E... Qui torniamo un po' al discorso di prima. Forse c'è qualcuno a cui potrei dire tutto, ma in generale... non mi apro completamente con qualcuno. Cioè, vengo a mantenere private alcune cose. pensi di sposarti entro cinque anni? Palle di fieno che rotolano. Passiamo avanti. Pensi che qualcuno nutra dei sentimenti per te? Sì, certo. Pensi che qualcuno stia pensando a te in questo momento? Sì. Almeno voi che state vedendo questo video, mi state pensando. A meno che non lo stiate usando per addormentarvi. Hai avuto una buona giornata ieri? È stata un po' faticosa. Perché ho lavorato quasi tutto il giorno davanti al computer. Quindi a una certa ora gli occhi hanno cominciato a fare... Giacomo, Giacomo. Quelle sono le gambe, vabbè. Due mesi fa avevi una relazione... Penso si intenda una relazione di coppia. Sì. La tua vita è come due anni fa? No, per fortuna è migliorata. Negli ultimi anni è stata, devo dire, un crescendo di positività. Se la persona con cui desideri essere... No, scusate. Se la persona con cui desideri essere fosse con te, che cosa staresti facendo in questo momento? E... E... Stare facendo... Ovvio, però... Vabbè, mettiamolo così. Starei pianificando alcune cose importanti. Qual è la parte migliore della scuola? Della scuola... Quando suona la campanella, immagino. O la ricreazione. Hai delle foto sul tuo Facebook? Sì, qualcuno, ma non ne metto tante, perché non mi piace usare Facebook. Hai mai passato bigliettini agli tuoi amici di scuola? Sì. Si comunicava tramite bigliettini quando eravamo alle medie, al liceo. Perché ovviamente non si poteva chiacchierare ad alta voce, quindi per le comunicazioni varie si passavano i bigliettini. Però non l'ho mai fatto per passaggio di compiti o cose del genere. Poi questa domanda... Riproduci le cose che sono accadute nella tua mente? Ah, non so se si intenda. Se cerco di riprodurre nella realtà quello che ho pensato prima. O se rivivo nella mia mente cose che sono accadute nella realtà. Comunque in entrambi i casi. E nel frattempo basta un bel aereo. Che bello. Che bello fare video con questo ambiente. Allora dicevamo, in entrambi i casi la risposta è sì. Io faccio parecchi viaggi mentali. Senza l'uso di sostanze stupefacenti. Poi mancano tre domande. Eri single la scorsa estate? No. Che cosa dovresti fare in questo momento? Questo è un momento di pausa. Quindi non dovrei fare assolutamente nulla. Mi piace concedermi qualche momento per me. E poi non appena avrò terminato questo video invece dovrò preparare il pranzo. Poi di la verità. L'ultima persona a cui hai mandato un messaggio è attraente. Dovrei ricordare chi è l'ultima persona a cui ho mandato un messaggio. Diciamo che sì, l'ho mandato al mio fidanzato. Quindi sì, è attraente. Almeno per me. Ok, ragazzi, il tag è finito. È stato un tag piuttosto frivolo e leggero. Io taggo. Intanto in sottofondo sentirete anche i rumori del mio stomaco che ho fame. Allora, Chiara ASMR, Daisy Magic ASMR e Copala ASMR. Spero che rispondano al tag. Mi raccomando, lasciate qui sotto il video, non dimenticate le vostre domande. Io appunto, quando ho raggiunto un numero sufficiente di commenti, le raccoglierò e farò un video dedicato alle risposte. Vi mando un grande abbraccio e buon relax. Ci vediamo nel prossimo video. A presto. A presto. A presto.